40.000 euro di risarcimento dovranno essere pagati dal comune di Sciacca e proprietari di un appezzamento di terreno, due fratelli situato in via Verona e a cui in estrema sostanza è stato negato il diritto di affittarlo ad una compagnia petrolifera che avrebbe realizzato qui una stazione di carburanti. E questa è la decisione assunta dal CGA di Palermo che si è pronunciato così su un contenzioso iniziato negli anni scorsi. Nell'accertare il principio della colpa grave da parte del comune, i giudici amministrativi hanno così accolto la tesi degli avvocati amministrativisti Gigi Rubino e Giuseppe Impiduglia la vicenda è quella che scaturì dalla necessaria demolizione della vecchia stazione di servizio di Porta Palermo, fatto che risale ormai a diversi anni fa. La Tamoil immaginava di potersi trasferire altrove, a tale scopo stipulò un accordo preliminare con i proprietari di quel terreno di via Verona chiedendo al comune la licenza edilizia. Il comune inizialmente accordò la richiesta, nel frattempo giunse anche il via libera di competenza da parte dell'assessorato regionale all'industria e malgrado nel frattempo la compagnia Tamoil avesse perfino pagato gli oneri di urbanizzazione, inaspettatamente nel 2006 il comune di Sciacca revocò il parere di compatibilità urbanistica del sito individuato dalla società Tamoil in via Verona, così interrompendo l'iter per l'ottenimento della concessione edilizia. Iniziava così un lungo iter processuale che si concludeva con l'annullamento degli atti con i quali il comune di Sciacca aveva di fatto per anni precluso la ditta Tamoil di realizzare il suddetto impianto. Era il tempo delle polemiche e delle immancabili proteste a Sciacca anche per l'insediamento di questa stazione di servizio, ma da quella vicenda scatorì un lungo contenzioso con i legali a cui i proprietari del terreno si sono rivolti che hanno evidenziato in sede giudiziaria l'illegittimità degli atti adottati dal comune. I proprietari del terreno in particolare hanno lamentato di avere subito un danno per effetto degli atti della condotta tenuta dall'ente accusato apertamente di essersi ostinato per anni ad impedire, ritardare ed ostacolare senza alcuna ragione la realizzazione della stazione di carburanti, scoraggiando l'investimento e l'attuazione della concessione. Una vicenda che adesso si trasforma in un risarcimento che nel caso qualcuno perdesse di vista questo elemento apparentemente banale, se dovrà essere pagato dal comune significa che sarà pagato dai cittadini. Comune di Sciacca condannato anche a pagare le spese legali quantificate in 2.000 euro. Il CGA ha accertato la colpa grave del comune di Sciacca che, con la propria e legittima condotta, ha indubbiamente scoraggiato l'investimento e l'attuazione della concessione. In particolare con la suddetta sentenza, il comune di Sciacca è stato condannato a risercire il danno cagionato ai ricorrenti, oltre a rivalutazione interessi dal giorno della domanda fino alla data del pagamento.